E' un orditoio delle passamanerie specificatamente, è stata costruita nella fine del Settecento su un disegno di Leonardo da Vinci. Quindi tutt'ora e tutt'oggi realizziamo delle passamanerie partendo da questa struttura, quindi da questo orditoio prettamente verticale. E' un contesto particolare, quindi non è che mi sembra di essere in un museo, anzi è un privilegio proprio lavorare con queste cose antiche, con questi telai del Settecento.